Sei un eroe Panni, chi parla? Affacciati alla finestra commissario, guarda in strada Per ora è solo una piccola dimostrazione Ecco le calibro 38, l'arma che mi avete richiesto Ma usatele col cervello ragazzi Siete stati selezionati tra decine di uomini proprio per questo E' un'arma efficace e sicura Oggi comincia l'addestramento Prenderanno ordini solo da lei, Vanni Ho saputo che qualcuno ha bisogno di dinamite Ti risulta? No Dovresti informarti un po' meglio C'è un carico di circa 70 chili in giro E non sappiamo a chi va Ma è possibile che non mi sia mai accorto di lei? Vuole ballare? Ascoltatemi bene D'ora in avanti giochiamo a carte scoperte La città è minata e voi non sapete né come né dove Voglio 5 miliardi di brillanti di piccolo taglio Preparateli Poi vi farò sapere come e quando dovrete consegnarmeli Io ce l'ho sulla coscienza tutti quei morti Voglio, non posso Ma io vi denuncio sapete Io Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.